Yu-Gi-Oh! Tutti duellanti ben ritrovati sul canale. Oggi, dovrei dire finalmente perché sono un tantino in ritardo, sono qui con il video sul comprare o meno i teen del 2023. Premetto che questo video non è rubato da Umba TGC perché diciamo che anche lui lo porta, io l'ho fregato a Gaming Tonight, quindi Umba se stai guardando questo video non l'ho fregato a te, mi spiace. Detto questo prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da Junkstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il loro referral link e il mio codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yu-Gi, Magic, Pokémon e One Piece trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo io andrei a vedere subito lo spoiler perché c'è molto da dire, soprattutto su cose che non sono state ristampate. Allora, bene, io inizierei subito con l'andare a vedere le carte più interessanti del set e quali sono quelle che secondo me sono da recuperare. Tra le carte più interessanti abbiamo, ok, Reprint e Libromancer. Poi abbiamo il Drago Jet Occhi Blu. Questa carta, non si sa per quale oscuro motivo, probabilmente il motivo si sa, ma per me è abbastanza ignoto momentaneamente, spero non sia solo una questione feels per il fatto che è un drago bianco, ma aveva toccato i 40€. Prezzo totalmente insensato per una carta del genere che attualmente con le Reprint è scesa molto. Quindi, giocatore di Blue Eyes, prendetela. Perché a breve la Konami dovrebbe far uscire degli Structure 1 Dark Magician, 1 Blue Eyes e all'interno ci dovrebbero essere tutte le altre carte. Quindi è la volta buona che vi montate il mazzo con, boh, un budget umano rispetto ai 400€ che costa adesso. Un po' strana. Ho detto 400 perché non ricordo bene la cifra precisa, quindi non linciatemi. E forse questa è la volta buona che Antoshio abbassa un pochino il tiro sul prezzo del mazzo. Poi abbiamo carta Dinomorfia, Terizia, che era salita anche questa, perché se non ricordo male usciva in back, quindi questa carta ha più di un anno, dovrebbe avere un anno e mezzo, e era salita durante il periodo d'Espia, il primo, dove effettivamente avevano provato una versione con Dinomorfia e questo aveva provocato tipo l'aumento del prezzo. Poi andando avanti abbiamo Illusion of Chaos, altra carta molto costosa che si giocava con Anima dei Maghi, anche questa sulla tipo trentina d'euro, se non qualcosa di più, forse 40 l'ha toccato. Vabbè, poi abbiamo altra roba Dinomorfia, questo qui che è il Pendulum DDD, che aveva fatto salire le carte DDD, poi si è rivelato tutto un grande enorme flop, però comunque la carta è molto umana, si può tirare in mazzi ex generici perché la puoi tirare sopra un altro DDD con l'Xyz rank 3, che non ricordo se era due mosse di bello 3 o due mosse di bello 3 demone. Comunque nel senso la potete tirare anche in altri mazzi ed è molto interessante perché prende i mosse dell'avversario e si attacca un materiale su attivazione effetto dell'avversario e è un effetto rapido, quindi assolutamente niente male. Se non ricordo male l'hanno fatto Secret, quindi gli hanno dato pure il Rarity Bump e ci sta comunque recuperarlo, non è male. Poi abbiamo il Vampiro Zombie, Xyz 8. Carino perché questo, se non ricordo male, 1004 e poi Evoca da Cimitero, una roba del genere e non è male. Considerando che sono carte che acquisterete con 3, 4, 5, massimo 10 euro, non è assolutamente male. A sto punto meglio recuperarla adesso che più avanti quando probabilmente i prezzi risaliranno. Soprattutto perché non è un set come quello dell'anno scorso. Quello dell'anno scorso aveva tantissima roba e quindi i prezzi sono calati. Qua di carte interessanti ce ne stanno molte ma meno rispetto all'anno scorso, quindi molte carte manterranno i loro valori. Ho già dato un'occhiata al market e se non ricordo male, ok che siamo ancora in prevendita. Ma Ferrier sta sui 11 euro, poi Illusion of Chaos 8, quindi diciamo non mi aspetto che siano carte da 50 centesimi, ma che comunque abbiano il loro valore. Poi andando avanti abbiamo la Terreno di Flanderese, anche questa Secret, ottima. Pensavo di recuperarle perché effettivamente tra i team dell'anno scorso e i team di quest'anno attualmente Flanderese è un mazzo che costa 10 euro e nel pratico è un mazzo ottimo secondo me da giocare, soprattutto se volete spendere poco e volete un mazzo che performi in maniera carina. Cioè, se c'è andata un local lo potete vincere, sicuramente. Diciamo che l'unica carta che costa adesso è la trappola delle arpie, che dovrebbe stare sui 6 euro, una roba del genere, 6 euro l'1 ovviamente, però per il resto ve lo lancia, veramente. Forse la Terreno Flanderese starà 3 euro, però nel senso stiamo parlando di un mazzo che con 50 euro fa assolutamente il suo. Andando avanti abbiamo di vieto di vendita che non stava a niente neanche prima, è carina. Se volete recuperarla, recuperatela perché veramente è una carta da 1 euro l'una e ci sta. Poi, vabbè, andando avanti abbiamo altra roba Libromancer, questi che va bene, cioè mi chiedo Konami che cosa ha in testa. Poi abbiamo Borea e Regulus, ottime. Penso, vabbè, Borea non stava a niente neanche prima, ma è tipo 7 euro secret, quindi questa ve la lanciano. Regulus stava a 20 slash 28, non ricordo bene, e nel pratico potrebbe essere una carta che si stabilizzerà sui 7-8 euro, forse 10, perché comunque è una carta ottima ed è una negazione gratis che entra sul terreno. Ovviamente si parla sempre di mazzi macchine. Poi abbiamo, vabbè, Visa Star Frost che potevano anche non mettercelo, visto che verrà messo all'interno del prodotto con i due mazzi, quindi ok. Poi non mi ci metti curicara, eh, grande. Poi poi andando avanti abbiamo... non vedo niente di interessante. Abbiamo, vabbè, Albalenatus, anche questo stava a poco anche prima. Poi abbiamo roba dinomorfia, roba inutile. Lui, funitore finale psico, questa carta ragazzi, io l'avevo sbustata e ho letto l'effetto e ho detto, cazzo, bellina come carta, è strano che sia così poco. Stava sui 10 euro. La misia 15, boh, tipo, nessuno me la comprava, perché, vabbè, non avevo fretta di venderla, quindi me la volevo tenere, ma diciamo, avevo capito che aveva del potenziale. Tipo, l'abbasso, il giorno che l'abbasso, la gente capisce che ha del potenziale e sale. E tipo, l'ho venduta a 10 ed era salita a 20. Questa è una delle breve storie tristi della mia vita. Poi abbiamo, oltre il Pendulum, anche questo carino, perché tanto Electromite, eh, voi, Pendulum Player non lo vedrete mai. Io spero di sì, perché non paio da vendere, però sembra che Konami non ve lo voglia ridare. Soprattutto perché poi, se non ricordo male, vi hanno annunciato un altro Link Pendulum che dovrebbe uscire nell'espansione prossima, se non ricordo male, eh. Poi abbiamo Spaventarti gli E3Hert, anche questa non è male da recuperare. Poi abbiamo il Link che usciva in difo, dei mazzi con le pitture. Poi abbiamo, vabbè, discorso Euterium, che, vabbè, anche questo non stava niente. Poi abbiamo una delle due carte per cui mi avete preso per il culo nel video anteprima con Konami. Ragazzi, ho letto male il nome della carta, lo so che è la Terreno Visas, non è una carta dinomorfia. E anche Alba, Alba Lenatus, che io l'ho chiamato Alanera Alba Lenatus. Ma perché stavo pensando agli Alanera? Perché ci stanno 6.000 carte lì dentro. Non è che se sbaglio nome non sono un buon player. Comprì. Poi, andando avanti, abbiamo, boh, questa per Branded, tanto per. Poi, 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 di altre carte carine e... ce ne erano altre. Sono sicuro. So che c'è Grifone, ma non lo vedo. Poi abbiamo Marta, che non è assolutamente male. Ragazzi, vi hanno reprintato tutto Exosister, tranne una carta di cui dopo parleremo, ovviamente. Quindi, se ve lo volete montare, potrebbe essere il momento giusto, perché non credo stare a tanto. Penso che con, boh, 20-30 euro ve lo montate. E, ovviamente, è carino da giocare. L'unica cosa è che, tipo, c'ha monocombo, quindi è un po' una merda. Però, per forma carina. Ovviamente non al livello del meta, eh, ragazzi. Sempre, sempre quello di ragionamento. Poi abbiamo l'altro spaventartiglio, Link, che non è male. Poi abbiamo Garura, che anche questo stava sulla ventina d'euro ed è un buon target di Super Poli, quindi non è assolutamente male. E mi fa pescare una carta, non ricordo male. Poi abbiamo... ecco, io perché... ragazzi, io stavo pensando a lui e l'avevo sbustato prima. Ecco perché ho chiamato al Balenatus Blackwing. Poi... poi abbiamo Magnemuth, Druiswurm, Saronir... no, Saronir è questo. Druiswurm e Lubellion, che attualmente è quello che costa di più. Gli altri stanno sui... questo 7, questo 4 e questo 4. Quindi accessibilissimi, considerando che questo stava a 20. Poi abbiamo Cartesia, che è la carta che usciva in double. Anche questa sulla trentina d'euro stava. Quindi per chi vuole avvicinarsi a Branded, adesso può. A parte QM, che non è stata ristampata, è ok. Però tutto il resto lo avete accessibile. Gli strutturi ancora si trovano. Le carte costano una cifra accessibile e ve lo potete montare. L'unica cosa è che Branded Red e Branded Opening sono un po' vecchiotte, quindi potrebbero essere leggermente salite. Ma a parte quelle e a QM, il resto è tutto accessibile. Ah, hanno ristampato anche Ludri, che stava a 6€. Quindi anche quello non è male. Andando avanti abbiamo la roba cash tira. Abbiamo Ferrier, che sta sui 11€. Unicorn, penso, bonus, stia niente. Stessa cosa a Orco. Era comune. Unicorn Ultra stava a 5€, quindi mi aspetto una carta da poco. Poi abbiamo Signora Labyrinth del Castello d'Argento. Ragazzi, questa carta costava 20€. Scesa perché è stata ristampata, ma la carta che si gioca sempre in Labyrinth è salita, perché ovviamente è uscita in foto una hypernova e da 2€ che costava, adesso dovrebbe essere salita sui 10€. Eh, ragazzi, è la vita. Penso che se ve lo volevate montare, l'avevate già recuperate. Se non l'avete fatto, sarà una cosa che dovete tenere in considerazione per l'anno prossimo. Poi, andando avanti, abbiamo, beh, roba ninja, roba Cash che stava a poco. Questo che stava tipo a 5€. La Scandalista che stava a 20€. Un po' piango perché me ne era rimasta una da vendere. Poi, come altre carte costose, vabbè, abbiamo, boh, Daruma. Carino, ma stava tipo a 2€. Altra roba, Rabirint, che ok. Poi abbiamo Fontana, Runic, che forse ci saluta nella prossima manna ed è va uno. Abbiamo Tipro che stava ancora a 20€. Stessa cosa a Win, ragazzi. Fino a poco prima delle ristampe che stava troppo sto mano. Poi abbiamo, vabbè, altre Exosister. Il reparto Brave, che piango tanto, perché io l'avevo comprato da BLC, BLCR, tipo, vabbè, Battle of Legend, e me l'hanno ristampato anche qua. Per quale oscuro motivo hai voluto riprintare due volte questo reparto e non mi hai messo Curicara, tipo all'interno di questo set? O la roba Tier, o la roba Sprite? Più che altro perché mi sarebbe piaciuto montare Sprite, però spendendo veramente poco. Quindi, vabbè, aspetterò. Spero che verranno messi da qualche altra parte. Poi abbiamo Avventura, fatidica, che questa carta non era stata riprintata all'interno del Battle of Legend. Ovviamente era salita, quindi adesso è tornata a un prezzo umano. E per concludere, basta. L'interessante. Questo ho messo totalmente a caso. E poi sono state aggiunte delle altre carte, che sono questa, che è una carta Spiral. Poi abbiamo questa, Ladro del Tempo, e questa, che è Nobili Cavalieri. Come altre carte, abbiamo le carte Romo, quelle con il logo del 25esimo. E devo ammettere che a questo giro la Konami ha fatto le cose giuste. Non ha messo carta a caso, come ha fatto negli scorsi set. Allora, abbiamo il Mago Nero, che ci sta, perché comunque è una carta iconica. Bravi. Exodia? Stessa cosa. Drago Nero? Stessa cosa. Che del Drago Nero effettivamente nel team avevano messo un altro artwork, poi alla fine hanno messo questa versione all'interno dei team. Cosa molto furba, più che altro perché il Mago Nero era nel pratico quello vecchio. Andando avanti abbiamo Drago Arcobaleno, iconico per la serie. Cyber Drago, stessa cosa. Neos uguale. Il mosto Salamagna, che non lo so, non ho seguito la serie. Poi Firewall sì, lui ci sta. Lui non lo so. Lui ci sta. Drago fotonico pure. Utopia, rosa nera, polvere. E, grazie a Dio, maestro armatura alla nera. Perché ho detto grazie a Dio? Perché questa carta costava troppo. La Konami non la riprintava da PGL, se non ricordo male, che era Gold. Poi c'era la versione Ultra e Ultimate da espansione. Poi è stata riprintata prismatica lo scorso anno, che nel senso ha significato poco, perché da 70 che costava è passata a 130, 150, 170. Più o meno le cifre dovrebbero essere quelle. Effettivamente questa se la mangeranno i giocatori di Edison. Palese. Più che altro perché è esclusiva venticinquesimo. Poi, ragazzi, diciamocelo. Questa costa tipo 7 euro. La sua versione d'espansione o Gold, NM ovviamente, sta sui 20 euro. E la versione Ultimate, vabbè, è insensata. Adesso, se Konami vuole fare un'altra reprint per gli ala nera, ci sarebbe da reprintare ala nera all'argento, che effettivamente avrebbe bisogno di una reprintata, visto che sta sugli 8 euro rara. Quindi Konami, quella potrebbe essere la prossima da rendere accessibile un po' a tutti. Che poi, se vuoi aspettare un altro attimo per farmi vendere le ultime che mi sono rimaste, ok. Se vuoi farlo subito, me la collo e fa come vuoi. Detto questo, adesso andrei a vedere un attimo le carte che non sono state reprintate, per capire un attimo il volo che hanno fatto, soprattutto per quanto riguarda il loro prezzo. E piangiamo insieme. La prima di cui vi voglio rendere partecipi è Exosystem. Magnifica. Questa carta, fino a, da come potete vedere, tre giorni fa, stava a 1,26 euro. Io, ovviamente, per non volerla vendere a così poco, l'ho piazzata a 3 euro. Vi farò capire che a quel prezzo è durata veramente poco, soprattutto perché quelle erano 6 copie. E guardate un po' adesso, oh, 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 ultimo venduto, 9 euro. Dall'Italia, 10. La vita è ingiusta, la vita è veramente ingiusta. Vabbè, capita. Andiamo con la prossima. Abbiamo Chimera Guardiana. Questa carta era stata reprintata in Maze of Memories. Questa carta io l'avevo ipotizzata all'interno dei teen. Più che altro perché l'anno scorso, in Ghost from the Past 2, era uscito Aluber e nei teen era stato ristampato nuovamente. Quindi mi potevo aspettare, soprattutto perché questa cosa era risuccessa anche con goccioline proibite, che era sia in i led che nei teen, che venisse ristampata anche lei. Sfortunatamente non ha avuto reprint. A me questo non frega niente, perché nel pratico io la mia Chimera Guardiana ce l'ho. Però siamo passati da una carta che effettivamente fino a poco tempo fa costava 17-18 euro a avere gli ultimi venduti che sono arrivati a 30. Poi, se vogliamo essere un attimino più fiscali, il primo da posizioni no, 30 euro. Però il primo italiano inizia a costare già 35. Diciamo prezzo anche abbastanza alto per una carta del genere, soprattutto perché ha avuto una reprint. Che poi nel pratico è salita di prezzo più questa che la sua versione secret. Andando avanti abbiamo poi... Oh, guarda un po', grande benvenuto labirinto. Come vi avevo detto prima, questa carta stava, boh, 2 euro prima. Adesso lo fa vedere solo da 0,5-0,8. Ma prima stava veramente poco. Guardate un po' adesso, porca troia. Ragazzi, anche questa, ovviamente, non avendo reprint, è salita di prezzo. Perché, ragazzi, ovviamente questa non è una novità. È una legge che c'è tutti gli anni. Se c'è una carta che viene reprintata nel set che esce a gennaio, sicuramente salirà di prezzo quando usciranno i teen. Soprattutto se questa carta si gioca all'interno di uno dei mazzi forti che vengono reprintati, no, anche meno forti perché, come abbiamo visto, anche magnifica era salita, ma che sono stati reprintati all'interno dei teen. L'anno scorso è successa la stessa cosa con la carta Flanderese, quest'anno con la carta Labyrinth. Ma non solo, adesso andremo a vedere. Andando avanti abbiamo Sprite Blue, che stranamente non ha avuto una grande impennata. Da 14 è arrivato a 17 euro, ma più di quello non ha avuto. Adesso il primo playset sta sui 20 è dall'Italia. Noi siamo sempre figli di puttana, teniamo i prezzi sempre più alti di tutti. Dall'Italia 21 euro, non tanto di più, però nel pratico, da come potete vedere, considerando che questa carta non era all'interno dei teen, è effettivamente salita. Poi, andando avanti, abbiamo Perlereino, anche questa è salita, non troppo. Più o meno ha fatto lo stesso trick di Sprite Blue, indicativamente è salita di una decina d'euro l'una, forse poco o meno, 27, poco o meno. Però effettivamente non essendo all'interno di questo prodotto, il prezzo sale, ovviamente. La cosa che effettivamente ha destabilizzato le persone è che Pote non era stato annunciato come set delle ristampe, quindi nel pratico la gente pensava non ci fosse. Poi successivamente sono uscite news inerenti a ristampe come Garura, che erano all'interno di questo set, e quindi si è creduto che ci fosse Pote, perché se c'era Garura ci poteva essere anche Tear e la roba Sprite e Kurikara. Cosa che effettivamente poi non si è rivelato vero, perché sono due archetipi e Kurikara che non sono stati inseriti all'interno di questo prodotto, cosa che ha reso scontenti un sacco di persone. Soprattutto perché, guardate un po', io volevo Sprite e non posso montarmelo. Volevo Kurikara e non posso averla. Che vita ingiusta. Andando avanti abbiamo Kurikara che, oh, guarda un po', 34, 45. E vabbè, attualmente è leggermente scesa da 45, ma i playset costano veramente tanto. Partono da 40, però poco cambia. Carta che effettivamente si gioca o non si gioca, a differenza del meta. Adesso fondamentalmente è da capire Konami cosa voglia fare. Sicuramente se non ha messo questa carta e i due mazzi all'interno dei team li metterà da qualche parte. Secondo me, ipotesi, poi può essere che mi sbaglio, eh. Kurikara potrebbe trovarsi all'interno dello structure deck dei Fire King. Più che altro perché i Fire King sono fuoco e lei serve fuoco. Quindi effettivamente potrebbe starci e sarebbe una cosa sensata visto che è una carta che ai player serve. Non così tanto, però serve. E pagarla adesso 45 euro l'una non è la cosa più intelligente di questo mondo. Andando avanti abbiamo Theosis, che anche questo è un pochino salito, un paio di euro, ma niente di più niente di meno. Il primo sta a 7 euro. Il primo playset, boh, sempre 7. Massimo 10 euro l'una, ma proprio questi allarghi. E ok. Stessa cosa poi è successo con Rysart, che ha avuto dei picchi pindalici a caso, ma veramente insignificanti. Infatti la carta sta poco o niente, però è leggermente salita. Andando avanti abbiamo poi a Rysart, che anche questo è leggermente salito ragazzi, sta veramente niente. Per concludo abbiamo il cash tier che effettivamente è salito più di tutti, che è il cash tier tier laments, che da 10 euro è arrivato a 15. Tutto questo perché ovviamente fotone per nova non era uno dei 7 reprintati. Ma va bene. Nel senso, sono cose che la gente si aspettava, quindi non è niente di nuovo. Detto questo, facciamo un attimo un paio di considerazioni. Conviene o meno comprare questo prodotto? Allora, secondo me, ovviamente come i team di tutti gli anni, secondo me sì. Perché comunque all'interno troviamo tante carte interessanti, tante carte utili e quindi effettivamente, se volete proprio spendere dei soldi per sbustare, questo potrebbe essere un ottimo prodotto. Più che altro perché nel pratico, per quanto vi possa andare male, comunque avete una carta del venticinquesimo assicurata, che effettivamente non è male. Nel senso, vi esce un polvere, vi esce una rosa nera, vi esce un maestro armatura la nera, un drago fotonico che ha lattici. Alla fine sono carte che, un minimo, il loro valore c'erano. In più, ragazzi, credo che l'avete visto in i video anteprima. La roba esce, quindi nel pratico, secondo me, questo punto conviene sbustare. Poi, ovvio, deve uscire anche il set del venticinquesimo con la reprint di tutte le staples. Quando arriveremo a quel punto, vi dirò anche per quello, compratelo. Cioè, il video durerà quattro secondi, vi dirò, ragazzi, compratelo, punto. Però, nel senso, anche questo è un ottimo prodotto molto valido. Sono un po' deluso per le carte che, nel pratico, non hanno reprintato perché, diciamo che mi aspettavo a reprintere di più o meno tutti. E, diciamo, la scelta di non mettere tier sprite, posso anche capirla, perché, secondo me, la Konami vorrà fare una sorta di Mama 2.0, dove infilare questi due archetipi. Però, la scelta di non inserire carte come Magnifica o Kurikara, le vedo un po' forzate. Se Kurikara la mettono all'interno dello structure, ok, ha un senso. Magnifica, non metterla, è una cosa totalmente scema, perché, ragazzi, parlamoci chiaro, non è un mazzo meta, non è una carta così rilevante. È salita solamente perché, ovviamente, non è stata reprintata, ma a nessuno frega un cazzo di ExoSister. Quella era una carta da un euro. E, quando verrà reprintata, a nessuno frega niente, perché non è un mazzo rilevante. Detto questo, ragazzi, il video finisce qua. Spero, come sempre, vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento, ovviamente, se comprerete questo prodotto. Io, il mio mezzo case, ce l'ho ovviamente assicurato e lo andremo ad aprire, ovviamente, sul canale. Detto questo, state melisi e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti! Ciao!